Roma Servizi per la Mobilità svolge le funzioni strategiche di pianificazione e programmazione del servizio di trasporto pubblico di Roma Capitale. Si spazia da attività puntuali per fermate, orari, percorsi delle singole linee a piani complessi e articolati di ristrutturazione di rete per bacini anche molto ampi. In questi casi si tratta di studi particolarmente complessi con un uter lungo e articolato, a partire dall'analisi della offerta di trasporto in relazione alla domanda, quella potenziale oltre a quella effettiva, e ai rispettivi sviluppi nel tempo, passando poi per il confronto costruttivo con le amministrazioni, i municipi e i cittadini per arrivare alla fase attuativa. Adesso, dopo la pausa estiva e in un anno assolutamente particolare, si è arrivati all'attuazione di due progetti importanti e funzionali a incrementare l'attrattività del trasporto pubblico in una visione integrata di rete. Si tratta del progetto di ristrutturazione della rete nei quartieri di San Basilio e Casal Monastero, migliorando il collegamento verso la metro B e del progetto di ristrutturazione dell'intero bacino di Roma Est, all'esterno del Gra.